Musica Amici e ben trovati, io sono Speed Terry e eccoci qui per l'episodio di Descobri di Semi Terry La scoperta di Mid Terry, oggi non è scoprire o riscoprire il Tropico 6 Infatti, insomma, attraverso la limbica del tema, ne abbiamo già parlato Ma oggi andremo a parlare della sua espansione del DC Spitter In questa nuova avventura del Presidente, entriamo in contatto con le star E per farlo useremo l'unico mezzo permesso, ossia l'app Social Network Spitter L'unica app accettata dal Ministero delle Comunicazioni Moderne e dei segni di fumo di Topican Sì, anche questi qui rende molto... i segni di fumo sono meravigliosi a parlare Ve lo consiglio Noi dovremmo agire con queste stelle, queste stelle vicine per poter avere il loro sostegno Per sbloccare i loro punti di forza individuali e anche per loro Avere un certo amore, una certa dimostranza di fedeltà dei nostri subiti Che non fa mai male Ma dovremmo stare attenti perché ovviamente fama e soldi possono anche dare tipi loschi Quindi stay, stay more attenti, more attention please Questo gioco potrà avere nuove dinamiche, nuove meccaniche, nuove animazioni, nuove missioni Iniziamo a tutto questo gioco di nuovo per garantirci un nodo e sì Pronto a divertirci nei panni delle prezze Beh ragazzi, direi di andare avanti Ah, parliamo però dei requisiti minimi Sempre per ne ricordo così in casa non l'avete visto il primo video Che metterò qui a destra Alla vostra sinistra, alla mia destra Potremmo, porterò anche il video di Topico 6, il primo Dovemmo scritto il gioco nelle sue basi Ma per rimanere dei requisiti minimi Che sono Windows 7, con un messo operativo Una CPU, AMD o Intel, che è gratisca 3 GHz AMD, minimo, deve essere una 10, 850K E per Intel i3-2000 Comunque per RAM, interesse internet, abbiamo bisogno di 8G di RAM Per GPU, una radio HD 1880 O una GeForce GTX 750 Insomma, una scheda video che ci garantisca 2 GB dedicati E infine, uno spazio di 16 GB, quindi non tanto Andiamo a vedere che sono le missioni di spittor Perché ne avevo solo tante Allora, io gli ho fatto tante perché mi diverto qui E allora, mi trovo a spitter Dove sta? Scherzo messo Perché qui non c'è, mi hanno un po' Ce l'hai vicino, questo è l'altro messo, mi sembra Si, chiedo A noi potrò trattare dopo Scuso per il ritardo del video Però il discorso è avuto molto tempo che ho lasciato da parte Lo sto riprendendo Allora, l'ho visto un altro polis Ecco qui, spitter Quando i social media e le civiltà arrivino sul top Il presidente poterà, posterà un sacco di spitter Garantito Quindi meno stagione di moneta Con priorità massima di civiltà e turismo E regolazione di regole personalizzate Spitter e civiltà Insomma, mettendoci in difficoltà facile Perché non voglio fare la missione Voglio solo parlare il gioco Insomma Sto anche configurare i controlli scaricabili Ah, che bello Ok, lasciamo stare allora Stai a sperimentarci All'inizio della missione Andiamo ragazzi Ah, certo che al giorno d'oggi Sono tutti incollati a questi telefoni I tropicani sembravano gli unici a esserne immuni Almeno finché non è arrivato spitter Presidente Non ti sembra incredibile che un tempo la gente Non sbandierasse ai 420 i propri pensieri più ultimi? Ovviamente io ti ho sempre confidato i miei Ah, spitter Per un po' ha funzionato alla grande Beh, dopo aver convinto i tropicani a usarlo Il tempo è espressioso, presidente Especialmente il tuo Come capo di una nazione E non come un cico che gioca nella sabbia Beh ragazzi Insomma con questa bella intro di penultimo Il più grande, fedele E anche il penultimo che dovevo uscire come secondo Che ci ha centrato un po' questo mondo del social Come va anche qui I social vanno di lusso Anche se è 1989 Non è più adatto per rivedere un'app social Cioè non è più giusto Ma non ci deve essere questo Qua come sempre Lui ci garantisce già Di aver fatto Una costruzione Che ha voto per cittadini ricchi E adesso c'è sempre noi Però Già luce purtroppo Le migliori modifiche Che ci possono tanti rivedere Diciamo Faccio le facce le controlli dell'iso Ok Confiamo i cambi Ok Ok Ti annuncio che il social network Che hai sempre sognato per tropico Sì Lo sognato tanti anni Splitter Ovviamente ti ho procurato Procurato un account Splitter Platinum Così ogni tropicano Che usa Splitter Splitter Sarà costretto a leggere i tuoi Splitter Buon per loro Invece tu naturalmente Non dovrai leggere Le bagianate Che pubblichano Le bagianate A questo penserà L'ufficio Per l'obbedienza Allora guardate Qui c'è la missione principale Ok Nessuno lo sa Splitter Però ho già un piano Per rimediare A questa tragedia 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 Celebità Parla che i cittadini Sono infassinati Dalla celebita Forse Ne ammiranno L'avvenenza La fama E la stupidità Ovviamente Per prima cosa Dovremmo Attirare Delle celebita A tropico Non sarà mica Tanto facile Dobbiamo fare Nel aeroporto E costruire Una volta di lusso Una super villa E non andiamo a fare Vediamo anche un po' La nostra bella isoletta Guarda che è bella qui Abbiamo Allora Se questo è più facile Da gestire Le costruzioni Nel momento È difficile Scusate Lo zoom Non è ottimale Come gira Ok Qui abbiamo Il porto Dentro i vari Carichi Qui banale Là ci hanno 7900 di in-camp Adesso Dobbiamo un cielo Solare Va bene Qui abbiamo Cosa che non arrivano Poi Prendiamo Il scegliso Principale Con il nostro Altro porto Il trasporto Un altro Centro solare Molto bene Non va Centro commerciale Ecco qui Allora Il trasporto Non è Non è Non è Sblocco Turismo Il Non è Sblocca Noi Con compriamo Non sa Quei soldi Ne facciamo E andiamo a costruire Qui L'aeroporto Posso Un bel ponte Un bel ponte Si potrebbe fare Il ponte Sì Eccolo Vai sempre Ditto Perfetto Abbiamo Così Dove Non sapere Una strada Suve strada Che unisce Tropico 1 Tropico 3 Qui Trovano altre strade Se vogliamo Andrì a fare Quasi Poi mettiamo Play E mettiamo Un bel 4 Ok E non Trovano La zona Turistica Qui In queste belle Solette Ci sarebbe Tanto Ed andrì a fare Quindi Facciamo qui Una strada Ovviamente Ah mi piace fare Le cose Per bene Ecco qui E qui Faremo poi L'isola Diciamo L'isola Tropicale Facciamo Un'altra strada Pure qui Va Eccola Qui Poi nella punta No Ok E ok L'isola Sono collegate Fra loro Va bene Porto Sto costruendo No Mettiamo Un'altra Qualità Questi tutti Vanno lì E poi C'è Una Una Hotel Di lusso Ok Questo è Punto Qui Quindi Turismo O Supervilla 26000 Ci costa 28000 Però Di lusso Ci dà Molte Piie persone Ci dà Mentre Qui Sono Pochi Quindi No Cos'è Di lusso Sì Ah Chi Ho qui Levanta Al mare Che meraviglioso Altra Vieta Ah Qui c'è Un nuovo Un nuovo La radio Che ci va Un po A dire Eh Canale Sospittere Non importa Cosa Tu sappia O pensi Abbiamo avuto Un'idea Del nome Ok Mi dice anche Che è penultimo Possiamo parlare Dei problemi Certo Che a fare Cercare Immigrazione Dove sta L'immigrazione Penso I tempi Moderni Vedete Se fai i primi Su Per giù No Qui non c'è niente Serebbe Se questi primi Tu vuoi La costituzione Eccolo qui No Inese media E Immigrazione Eccolo qui L'avamo accanto Vedete qui abbiamo Noi Ricerche Prime Le Parti Le costituzioni Poi le Diciamo Le Iridi Possiamo creare E poi Infine I vari edifici Possiamo migliorare Al massimo Che tu ti chiudi Poi c'è il broker Il broker Il classico Uomo da fare Ci vota po' di soldi Ok Easy A chi Viene a ca' Ok Rapida Qui arrivano soldi Molto bene Qui stiamo costruendo Ah 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 Quante luci Ah 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 Questa va già più che bene Eccolo qui Buongiorno presidente Immagino Non ti aspetta Ti aspetta Io ho con il suo Con il suo Con il suo Incidente di percorso Basta Basta Avelenare Semplici Avelenare Ti basta Avelenare Che ho dovuto Camerare Però sono rimasto In contatto Con penutti Per restare A gallo O sotto Nelle mie Abitante personale Per finalità Più commerciali Adesso Non ho la tua disposizione Ok Temo che tu abbia Sottovalutato La complessità La complessità Delle celebrità Ok Ecco il mio primo consiglio Segretto di attivare la civetta E farle la sua Valità Apre un centro benessere Un centro di riabilitazione Di cercare l'aeroporto Attivare la modalità Di linea Aerea di lusso Per l'aeroporto Ok Quindi devo fare Un centro benessere E poi migliorare l'aeroporto Quindi Non su Qualc'altra cosa Questo ci da storie Però è anche pessimo Qua c'è Già fatto l'oro Ah già fatto il ferro Perfetto L'ho fatto come l'Oriente Scusami Di Ah di importazione Non esportazione Ok L'olio Che io prendi la cosa Ok L'olio Quindi esportazione Che ci dai tu Cioccolata Ci costa anche niente Non so Non è una cosa O gioielli O gioielli Che con i VIP Magari attivano più Con gioielli Guardiamo a costruire Un centro Un centro benessere Che Riabilitazione Non mi piace la cosa Non vorrei Tostà il centro benessere Per essere qui Ho sentito Il terreno di lusso Ehm Cocktail Cabaret Casino Piano piano E piano con calma Non essere valore Resto sulla spiaggia Il detenimento Non c'è qui Penso Sì Non c'è Melle istruzioni Non c'è niente Turismo Villaggio Motel Hotel Vista Ufficio Tigrine Aeroporto Hotel russo Super Super Villa No Cento benessere Eccolo qui Io andiamo a costruire Proprio qui Vicino all'hotel Facciamo la strada Vabbè Andiamo a costruire Poi la strada Facciamo la costruire La strada Va Perfetto Uniamo un po' di più di cose E servizio Centro benessere Eccolo qui Altra priorità E' non costruire Poi arriviamo a ricerca Andiamo a valore di cerca Va male Mi sa che devo fare qualcosa Aereo di cerca Aeroporto Dobbè essere Qui Aeroporto Dove sta l'aeroporto Porta Aeroporto Eccolo qui E poi andiamo a fare Anche resti nucleari Che ci servisse Un po' di denaro Sporco E allora Oh accanto Accanto Si Costruzione rapida Andiamo a vedere Da vicino Cosa sta parlando Ecco che bello Mi arriviamo anche qui Così Lasciamo la più cieca possibile Manco su delle case Per split Qua c'è Dobbiamo fare Causa A un'altra nazione Per averci rubato L'idea della bandiera Penultimo Ok Che cosa L'udienza Va bene Allora comunque Abbiamo bisogno di qualcosa Di niente Sì troppo complicato E Qualsiasi cosa che sia Vediamo il tuo nome E allora siamo D'accordo con te Ok Quindi andiamo qui Editto udienza Non ce l'avrò sicuramente Vediamo un po' Eccola qui In guerra mondiale Noi andiamo a cercare Anche l'udienza Ok L'eropo è stato fatto Va bene E allora Mettiamo qui ovviamente Linea di lusso Ok È arrivato con la celebrieta E fai in modo che la città Giunghi a tropico Le mie certi canali Sono formato Particolari individui Individui Allora ricorda che la città Dedichero uno stato alloggio Vuoto in una super villa Un'atel di lusso Un'atel turista più alto Mettiamo un'atel di ricevere Ok Però lì sto va bene Già come turino Scusami E non mettevamo Ancora più cose Mettiamo una super villa Pure qui a questo punto Ne con su venire Costruiamo Poi Usci per il turismo Appena arrivato C'è il giallo figlio del turismo Qui E Uh Verso per famiglie Lasciamo anche la sua villa No Ci sono stati Attenti di lusso E Verso sulla spiaggia Questo non fa mai male Questo ci da Ah Quindi anche gli spost Ci danno diciamo Dei Effetti Sua voazione Dei capitalisti No Non interessa 5-6 Chi se ne frega Industriali E siamo a 3 Perfetto Fatto Una volta Siamo riusciti a produrre qualcosa Per la gente che vuole comprare Ok No L'ho fatto il cabaret L'ho fatto il cabaret L'ho fatto No Possiamo una super villa Costruire Mentre quella deve essere costruita Mentre il cabaret l'ho fatto La metto qua La sono dei cabaret In una zona Della città Scusa Non è che solo I vips Se c'è un altro cabaret Ma iniziano L'ho costruito Alta priorità E possiamo costruire Una super villa Allora Questa isola qua Non sta andando male male Questa isola Possiamo fare di più Facciamo una stagetta qua Ok Ok Che va fino a qua E costruiremo qui La super villona Che a fine Sembra si era costruita Alla fine Ok Super villa Eccola qui In mezzo al nullo Se lui è vips Vips proprio Costruzione rapida Sono finito Ma non ci deve sapere tanto Manca la città Manca la città E non la portiamo Qual è il problema Cioè guarda È lì È lì Dai Nascolare qui Cioè è qui Qui la città proprio Ok però Sono Dammi proprio i soldi Maledetto Sono turisti Riccospondenti Sia residente Ok Quindi adesso Sono un turista Sbargo verso super villa Non sto arrivando Vediamo un po' se arriverà Ok ragazzi Dopo un'ora Di distrazione Che non vedete mai Secondo voi E soprattutto Dove è mangiato Quindi forse Questa è aiutato Forse accanto Che è il problema Per la residenza Perché in teoria Quando io clicco Sui personaggi Non mi dà la possibilità Ma Dove vanno i vips In una villa In una villa Super villa Anzi Non una villa Ma una super villa E ho visto Qui che c'è Non residente Ecco Offre cilinanza Delcibilità Ecco Ed è l'offrilla A Brittany Che legge Tanto che 5 stelle Posso ci Le vorrà venire Offre cilinanza Ok E ce l'abbiamo fatta Abbiamo un impiego Così c'è un cocktail bar E possiede almeno Un cocktail bar Con posizione Ok Vabbè Sì Con mostre semplici E sta a Brittany Qui Allora Sui figli Lavoro come Porta aperte Messiatismo di lusso Cambagne con testimonia Questi aumentano Eficienze Centri commerciali E E Maniatismo Botto Cilinanismo di lusso Facciamo questo Cilinanismo di lusso Va bene Poi Costruiamo un cocktail bar Così Aggiungiamo Quello che dobbiamo fare Ossia Finire questa Missione Questo video Che deve essere Solo Un Discovery Che però Stiamo Trasmodo In un gameplay In pratica Ok Mettiamo qui Il cocktail bar Qua In questa zona qui Perfetto Cosa usce il rapido Non mi interessa Mettiamo play Ok Poi vuole Installa Specchio Perfetto Ok Doverà esser Ce l'ho Le visite a dentro Ce l'ho Ok Mettiamo Utilisti Di lusso Molto felici Qua non c'entra di che Qui Abbiamo La questione Per usare dopo Abbiamo soldi Va bene Porta con questione Di questa Poi questa è un altro Via sinceramente Perché ci siamo Dove sta Quattro meno Non costa tanto Tanto Mettiamo qui I vips In questa zona qui Poi Sì Tanti non abbiamo Tanto vips Da ospitare Altro Possiamo mettere Magari Più qua dietro Va bene Mettiamo un bel Po di Un po di strade Siamo molto vicini Però perché Sono così vicini Ah perché Correzione Sempre cambia Ok Siccome Probabilmente la nostra zona Vips Ah non c'è dentro L'ora Che bello Sta cosa Per cantigli Tagliare le tasse Finito Ok Quindi Tiamo altre ville Scusami Altre due almeno Con cittirelle Penso fare così Shift No shift Ok Quindi Uno E due La Beverly Hill Di Tropico Eccola qua Ok Altre cosa da fare Uh Vedi E lui Buckberry Può anche venire qui Quindi facciamo un'altra bella villossa Qui Nella zona Vips Diciamo Di Tropico Do sta Ormai sono tinta A grande Poi sono E euforico Ragazzi Sono veramente euforico Quando fai 100 milioni così Sono rapida E mettono qui Aiden Aiden Eiden Ah E a Liera Bugs Sì Ok Ok Qui vippola Arrivano Fiotto I turisti Sono due su 50 Ok Allora Cercare qualcosa Per migliorare Il turismo Allora Visto? I soldi escono Ora che la Cosnezzov ha esaurito il suo scopo È tempo di rendere tropico la meta numero uno Avrete notato dei nuovi droni di vigilanza sperimentali fuori dalle vostre finestre Non temete! I droni attaccano quando avvertono la paura Ok, un'altra menzione è fatta Oh, ci manca solo fare questa cosa Entrata generata da attività E siamo abbastanza alta perché tende a 5-5 mila Qua siamo già al massimo Tende a come si abbassi Ma dai, ce la possiamo fare raga, siamo almeno vicini Dopo due ore di distrazione che per tutto durerà a 20 minuti Che riuscirà a finire questa missione Non serve un po' come si isolve un poco Eeeh Questa è la tua gioco Ah, ciao Ah, ok Non mettiamo qui l'ambasciata L'ambasciata, c'è anche la trezza, la migliore oriente Dico, siamo qua, dai In mezzo ai rips Dai Su Usci rapido, ok E mettiamo in oriente C'è un amico Dammi i soldi sul conto sbizzero Così Ok Per fare questo Sì, sì Un punto migliore 1-100 Ok, un passito in più, dai Invadiamo anche questa zona qui Invadiamo No, siamo qui No, siamoci qui Ok Perfetto E c'è lavoro Oh A che mi aspiro Ok Fai male per il denaro 0-1 Ma come faccio Mamma mia Ok Impostazione dal Medio Oriente Quante cose da fare Raga Incredibile Ok Nickel Dammi un po' di sicure Va Ok Ok Eh sì Qua continuiamo a costruire A ricercare Ma siamo proprio al massimo Di tutte le ricerche Perché così non può andare Va bene E allora Ufficio stiamo costruendo qui Sì che sta producendo Tantagera Tocca me le spie Dove è che me le spie Penso qui Oh, ecco qui 3.000 12.000 Mettiamo qui vicino al covo Dei pirati Zona nuova Così Osservazione Ok Red Osservazione Dai Così Sono Mi sono in città I importanti Qui manca Allora Così Usa Cosa Non serve Fiscio Pescianas Che c'è il pesci Manca Ok Quello è fatto Sorveglianza totale Ah Perché lei Ce l'ho scettato Diti forse Non posso fare Non posso fare niente Allora 10 Reggio Sennò Più 8 Reggio Scusa amico mio Che 2.000 Niente Ma qui posso fare Diti sorveglianza Sorveglianza totale Ok Ministro per informazione Altre case Dai Avete le case Non dovete scatole Ministero di informazione Ministero di informazione Uno Lo costruiamo qui Bello Ma che bello Ma che bel ministero È meraviglioso Con l'occhio Lì Dei Templari Dai Su Che secca E' vero Che abbiamo Presidente Letta quadre E copo Per tutti i figli Supervilla Ho saputo Dei furti Presidente E' incredibile Ok mi trovo In Russia L'ambasciata I tedeschi Allora Edifici Un po' Edifici Scusami Edifici E' turismo Di lusso Ristorante Gourmet C'è Diti no Lo vedo male Non c'è Infatti il gourmet Non ci sta Che bello Che è qua Soldi Base Spaces Mettiamolo qui Da Vicino a casa No dai Vicino a casa Così girato Che è un po' Più distante E mettiamolo qui Solo dignitari Ok Comando drone Pure Ok Mamma Non andassi a costruire Il comando drone Dov'è Militari Comando drone Voglio 12.000 Siamo in table No Siamo in table Ok Sotto dentro Split Scusami Mi scusi Grazie Allora Sì Qua siamo soldi Ok Allora Secondo Dove Dove Io Lo facciamo qui Comando Oh Trovo tanto spazio Vediamo qui C'è un centro di ricerca C'è una strada No Alta priorità Se si sbrigano pure Mamma mia ragazzi Un'altra distrazione Incendio Dove Incendio Allora Costiamo ancora le case Giusto E allora Dove costiamo le case Direi qui Oh Mamma mia Non possiamo costruire niente Ora c'entrano soldi Carenza di energia Perché Mamma mia Quante cose Stiamo costruendo Ok Manca Giustamente E Centrale solare 18.000 Aspettiamo un attimo Centrale solare Ieri stanno arrivando Qui Quanta mila Mamma mia Mentre qui Quanto Di 3.000 C'è poi Il cartello solo Perfetto Ok Split Che ci scrive Facciamo questo Continuito In cui C'è l'esodare Rabia Rabia Che mi sembra Non in CIA Diversità Culturale Diversità Culturale Ditto Diversità Culturale Tac Sai quale sarebbe Ok Qua stanno andando Va bene Guarda come C'è la stanno andando Bene Insomma ragazzi Vengono tutti i possibili Per il nuovo C'è i tronchi vanno Questa missione ragazzi Finalmente riusciremo Che l'ha fatto Siamo finalmente a finire Questa storia Lascia che lo cerchi Per te Che l'ho fatto Punto per l'acre Sono questo Punto per l'ire Dove è il right Andando il right Ok Avendo la gestione da tutti Quindi c'è un problema Maledetti Ci hanno Drogliato Mamma mia Ci manca solo fare Veloce turistica Veloce turistica C'è qui Veloce turistica Ok Dai Editto Mettiamo tutti Visto che ormai Non c'è solo questo Da fare Questo Veloce Abbiamo vinto da partire ragazzi E' come si fa Io metterò Aumentare gli highlights E abbiamo Perfino Quattro estrellas Suttripizza Ancora volta hai creato Qualcosa di straordinario Quasi del nulla Ti bastava una piccola cipera Con un po' di soldi Ecco Il tutto mentre Tenevi a ballare L'ego della celebrità Gestivi una presenza Continuata online E subivi un furto Come sempre sono impressionato Della tua vita Viva presidente Viva tropico Oh Ce l'ho fatto Finalmente Hai immaginato che nel giro di pochi mesi Spitter sarebbe stato comprato E smantelato Da una piattaforma rivale Anche se Spitter è morto E sepolto Il turismo È espioso Gli alberghi sono strapieni Si fotografa A destra E a manca E i casino Fanno soldi Appalati Sì Appena ha visto Cosa offrivamo Il mondo intero Ha bussato la nostra porta E noi abbiamo fatto pagare L'ingresso Appesso d'oro Ce l'hai fatta Presidente Ce l'abbiamo fatta Esatto Nessun può mettere Dubbia di tuo successo Ovviamente Comunque ragazzi L'abbiamo fatta Questo era Il Questo era Lo spin off Diciamo Di DLC Splitter Con il grande complotto Alla fine Ho un po' saltato Certo di dialogo Perché è veramente Troppo tempo Però spero di aiutarvi In casa Se volete comprare Questo DLC O se vogliate Risolvere i problemi Insomma Che problemi Insomma Quinto da tutto Sia il gioco Il DLC Sia come le solite Comunque Invita a lasciare un like A commentare Ed è la vostra Se non lo avete fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina C'è notifiche Di video che usciranno E vi conto anche Su Twitch Dovrei live E su vari social Come Facebook E Instagram Così per essere di più Sul lavoro Detto questo ragazzi Alla prossima scoperta Dallo Smith Terry Passo a chiudo Musica